A Venafro il superamento dei limiti per le polveri sottili è un problema reale, ma le statistiche dicono che i periodi più critici coincidono con quelli di fermata del nostro impianto, quindi non c'è alcuna correlazione tra la qualità dell'aria e la nostra attività. Questa in sintesi la precisazione del direttore dello stabilimento Colacem di Sesto Campano, Massimo Giaccari, alla luce dell'interrogazione presentata dalla parlamentare Rosalba Testamento, che mira a ottenere maggiori controlli sulle emissioni degli inceneritori e un'indagine epidemiologica sulla piana di Venafro. Per Giaccari, autorevoli studi dimostrano che in Italia oltre l'80% dell'inquinamento dell'aria da polveri fini è causato dal traffico e dal riscaldamento domestico. In ogni caso la Colacem ha precisato rispetta tutte le norme vigenti. Usa la frazione secca non riciclabile dei rifiuti non pericolosi per sostituire parzialmente il combustibile fossile, così come raccomanda l'Unione Europea, come auspicano le organizzazioni ambientaliste più serie e come avviene nei paesi più progrediti al mondo. Nel ribadire che le porte della Colacem sono sempre aperte a tutti, Giaccari ricorda che tutti noi che lavoriamo nello stabilimento di Sesto Campano abitiamo in questo territorio insieme alle nostre famiglie, consapevoli del livello di attenzione, professionalità e sostenibilità della nostra azienda. Fare industria rispettando l'ambiente possibile, ha concluso, ma a patto di mettere in campo la tecnologia adeguata, la professionalità di chi opera e l'attento e costante controllo degli organismi competenti.